Ciao ragazzi, sono Flavio Malafronte e oggi vi faccio vedere come fare la real carbonara Questo è l'autentico risetto, non è quello con il bacon, non è quello con il milano Questo è l'originale, abbiamo un guanciale, che è più fatta e tastata con il bacon e la pancetta, anche bisogna un po' di pecorino, parmigiano e due occhi e per la pasta, usiamo un garofalo che è molto buono e un lingui Allora, prima di tutto, facciamo il guanciale, facciamo qualche tubo Allora, facciamo un po' di pecorino Facciamo un po' di pecorino Ok? 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 Ok Potete fare il cuore che vuoi, ma è importante non essere molto grandi e molto piccoli perché è importante che sia cresciuto e che sia un ol'amore Ok? Quindi, ora che abbiamo messo la guanciale, mettiamo il potere della flamma. Non mettiamo il potere, mettiamo il potere sul foglio, senza olio, non necessitiamo olio, solo mettiamo la guanciale sulle, ok? Come questo. Molto facile. E mettiamo il potere. Ok. Poi prendiamo il 50% del pecorino e il 50% del parmigian. Ok? Quindi, prendiamo il potere. Ok? E un po' di parmigian. Ok? E un po' di parmigian. Ok? E un po' di parmigian. E un po' di parmigian. e il pecorino. Ora che abbiamo messo il parmigian e il pecorino, Ora mettiamo in una poteca e mettiamo in due pezzi, uno, due, con un po' di pepe. Ora potete vedere che è iniziato a prendere il pepe, potete vedere il guanciale? In 5 minuti sarà pronto, ok? Ora mettiamo in un po' di pepe. 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 Ok? E mettiamo in un po' di pepe. E mettiamo in un po' di pepe. un po' di pepe. Ora mettiamo in un po' di pepe. Ora mettiamo in un po' di pepe. Ora mettiamo in un po' di pepe. Ragazzi, questo è l'autentica alimentazione di Napoli, ok? Ora vi mostrerò il Vesuvio, vieni con me. Non mi credi? Vieni. Guarda, questa è la mia pizza oven, davvero Napoletano. E qui? Il Vesuvio. Guarda qui. Questa è l'autentica alimentazione, ragazzi. Autentica. Calma bene. Allora. Siamo quasi pronti. Vediamo? Viene tutto il vino, ragazzi. Viene tutto il vino, guarda. E tutto il vino, è venuto. La pasta è cucata anche. Quindi, in 3-4 minuti, siamo pronti. Quindi, guarda. 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 ok 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 can we see? ok so now we just start to take out the guanciale the guanciale the guanciale so now we just take out the guanciale like this ok 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 guys beautiful this pasta this carbonella is gonna be the best it's gonna be the best I was just checking yeah ok so let's see how our pasta how is can we see? that is starting in one minute and it's gonna be our delta so we are almost ready so now is very important to make it good ok because we are almost ready with pasta ok and now we are gonna make the secret of the right carbonara so we take this pot voila 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 ok we put a bit of water boiling water here ok inside the fat of the our carbonara now take all to the pasta and do like this ok putting back here ok voila now just a couple of minutes and the pasta is gonna take the flavor of the guanciale okay putting a bit of water voila it's hot ok it's important to make a good balance to make the pasta al dente and make it cook in this in this juice ok voila ok now we make the special cream ok so we take out the flame before put the eggs because if we do it with the high temperature became a scrambled egg ok so we don't have to make when it's very very hot so now we put our cream voila and we turn the egg and we turn the egg this is very al dente guys look at that look at that how amazing this this is the real cream to make a banana you don't need any milk cream or stuff like that look at that look here which is amazing with black pepper look with cheese different kind of flavor can you see how is amazing so now we take a plate look at that look at this voila voila ta 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 we put our granchale on the top ta 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 a bit of black pepper again we take with a spoon we take a spoon we take a spoon ok we take a spoon and we put more here one can you see on it one look at that guys this is art look this is the best ok so i'm gonna test it for you guys ok so i will see you how is it ok are you ready ok i'm gonna take a bit of guancial as well guys this is unbelievable mmm it's unbelievable it's unbelievable guys this is the best way to make carbonara ok so guys subscribe to my channel share this video and think tell me what you think about this carbonara ok ciao ciao